calcio mistero senza fine bello giù per gli rami della letteratura sdrucciola questa forisma da padre dante al crepuscolare gozzano fino a noi passando per giovane brera fu carlo che lo spogliò di femmini a presenza e ne diede veste pallonara ci vorrebbe la edo che non vedeva ma tutto sapeva per cantare l'impresa epica degli uomini di valeriano loseto che hanno tenuto botta i rudi assalti di un famelico taranto ed hanno trovato il successo con una magia di testa del più lillipuziano di tutti taurino lomino dai piedi d'oro il tecnico bare si ritrova dietro il piratesco petta registra retrato biasson moto perpetuo mariani il ficcante nano la esterni capece metronome montinaro estrosso suggeritore per il fantasisti in miniatura e capitano lattanzi e comunque l'eroe invitto sarà il portierino dai mille voli figliola salda e tonante risulterà la formazione ionica così come schierata dalla terza guastamacchia e rizzo a presidiare la difesa un sontuoso di a b e il geometrico matute per non far rimpiangere marsiglia assente il trio delle meraviglie guaita tissone falcone a supporto di diaz si parte e il monologo rosso blu a avvio minuto 3 cross al volo di guaita e zuccata lieve di falcone 60 secondi e balzo gattesco di figliola sempre su stacco di falcone imbeccato da bocce poco prima del quarto d'ora dribbling e destro dal limite di falcone fuori d'un soffio al trentatresimo montinaro per lattanzio palombella di testa e ceskovski si rifugia in corno ad un primo dall'intervallo guaita serve tissone in area che stoppa e spara murato dei difensori bitontini i leoncelli escono dagli spogliatoi più impavidi al settimo punizione di guaita innocua dai 30 metri a fila un piazzato montinaro al nono che si spegne però fra le braccia di ceskovski minuto 11 e palla sembra volgere le spalle ai padroni di casa quando colella si fa espellere per un doppio giallo nel breve volgere di 5 minuti al 14esimo diaz impatta con energia ma il riflesso di figliola è da campione e il 17esimo quando la callida incornata di taurino su corner da destra di montinaro buggerà l'estremo ospite e porta in vantaggio il bitonto poco prima della mezza carambola alla sfera su guaita botta di diaz da distanza ravvicinata e prodigio di figliola subito dopo rasoiata da fuori di diaz figliola inchiode il cuoio sull'erba al 32esimo il destro di mastro monaco non si fa beffa e galleggia flottante fuori ad un sospiro dallo scadere rosso per palazzo ma pur con i leoni in nove resta inespugnabile il fortino nero verde e sono tre punti pesantissimi nella bisaccia del club guidato dal patron rossiello